Il ristorante Aprilio Izzetto Il ristorante Aprilio Izzetto nasce su una villa chiamata Doverk Zemono o Castello di Zemono, collocata a Vipava nella zona ovest della Slovenia. Aprilio Izzetto fin dal 1897 è stato un semplice ristorante gestito dalla nonna di Tomas Kauci, che piano piano l'ha trasformato, passandolo al madre e infine al nipote, in un fantastico ristorante dove ogni giorno vengono serviti piatti straordinari ideati dallo stesso Tomas. Oggi Aprilio Izzetto è un ristorante molto frequentato con una culinaria unica al mondo. La sua struttura è di grandi dimensioni. All'interno ci sono, oltre alla cucina e all'ufficio, almeno 4 sale che vengono utilizzate generalmente durante l'inverno quando fa più freddo. All'esterno troviamo invece un giardino molto ampio, su una fantastica vista sulla valle di Vipava, con un piccolo portico dove durante l'estate si allestiscono dei tavoli per i clienti o si preparano dei meravigliosi banchetti per matrimoni. Non solo però, il ristorante offre inoltre un servizio di catering, dove vengono sempre preparati dei banchetti indimenticabili. D'Aprilio Izzetto è tradizione importante, dopo aver fatto accomodare i clienti, portare un benvenuto di stagione per accoglierli nel migliore dei modi. Cuoricini di formaggio Cuori di formaggio di Zemono con semi di zucca e radicchio rosso, serviti su calici floreali accompagnati sempre con uno spumante della valle di Vipava. Pousdrà, melone con prosciutto crudo essiccato da bere, accompagnato da una patata viola arrotolata nella pancetta, da gustare con una particolare salsa. Minestrone quattro stagioni, servito sul letto di foglie autunnali e neve artificiale, macedonia di frutta e verdura con guarnizione di gelato alla vaniglia e basilico essiccato. Mersetto Pag. Grazie a tutti.